Buongiorno a tutti, giornata di vigilia, tutto in gioco, molto molto importante la partita di domani da non sottovalutare assolutamente, da vincere, però prima di ogni cosa lasciatemi ringraziare il maestro donato inglese che è iscritto al nostro canale, anzi ha detto che è l'unico canale a cui è iscritto e ha sponsorizzato anche a iscriversi al nostro canale, diciamo un uomo dalla cultura musicale incredibile e gli abbiamo già fatto i complimenti e faremo anche una live insieme al maestro prossimamente quindi grazie, grazie per questa sponsorship dicevamo quanto mai importante domani, 20 milioni da blindare subito per mettere fuori gioco il Barcellona però non è certo, perché potrebbe succedere anche l'imponderabile vale a dire, se il Barcellona battesse il Bayern Monaco, cosa che non è da escludere assolutamente l'Inter vincesse a Monaco il primo di novembre potrebbe anche finire fuori la squadra tedesca e l'Inter passare prima sembra un po' un'ipotesi da metaverso, ma non escludiamo niente come vi abbiamo sempre insegnato la linea del canale blindare gli ottavi di Champions e relativi 20 milioni e rimettere quel signore lì al centro del villaggio al centro del progetto Romelu Lukaku tra poco andiamo ad Appiano vi faremo anche respirare come sempre l'aria della vigilia dell'ultima rifinitura quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto che vi fa e vi porta dentro il mondo Inter a differenza di chi è chiuso nello scantinato al massimo guarda le partite dal divano e non fa altro che criticare tutti e chiunque poi diffamare questo canale ma vi abbiamo già detto, non ne parleremo più se ne occupa l'ufficio legale con tanti saluti e la sottolineatura del Teccaldo più famoso di Youtube rimettere Lukaku al centro dell'Inter ricomincerà da domani a due mesi esatti dalla sua ultima partita a Roma con la Lazio con Lukaku in campo l'Inter non ha perso una partita uscì sull'uno a uno e forse fu quello uno degli errori della partita di Roma proprio abbassarsi e dare il messaggio sbagliato per cercare il pareggio e poi si andò a perdere la gara un po' come successo a Udine un po' come avrebbe potuto anche accadere a Firenze ma la differenza è che a Firenze non c'erano proprio alternative a Lautaro mancando Lukaku, mancando Brozovic, mancando Gagliardini alternative quindi anche a Bellanova che poi ha preso il posto di un Lautaro che era stremato da una partita incredibile come sottolinea il nostro microonde e con Lukaku può cambiare tutta la storia l'ha detto anche Boban l'ha detto Cassano poi parliamo di Cassano con Lukaku si può veramente pensare di andare a rimontare intanto bisogna andare a vincere con Juve Atalanta poi vediamo come si arriva alla sosta poi con il Napoli dopo i mondiali a inizio gennaio e poi vediamo tireremo un po' le somme reinserire Lukaku all'interno di una squadra che adesso sta ritrovando anche il suo gioco con un Geko che abbiamo visto entrando a 20-25 minuti dalla fine può fare una differenza incredibile da non anche escludere qualche partita da giocare anche con la doppia torre per far rifiatare un po' Lautaro e non sovraccaricarlo troppo inserire poi Lautaro a spaccare le partite insomma capite quanto cambi col ritorno di Lukaku anche il potenziale a disposizione di Inzaghi non bisogna assolutamente sottovalutare il Victoria Pilsen dichiarazione il suo capitano pronto a venire qui a fare punti no in teoria basta fare lo stesso risultato del Barcellona non necessariamente una vittoria però diciamo una vittoria porta quattrini più di due milioni in Champions quindi non bisogna proprio farsi il minimo scrupolo vincere cancellare quelle macchie che rappresentano nella storia dell'Inter quelle partite con Pesve Eindhoven e Shakhtar Donetsk a San Siro dimostrare ulteriormente di essere cresciuti andando a completare un'impresa che dopo la doppia sfida col Barcellona veramente ha un passo per per mettere subito in cascina un'impresa in cui credo pochissimi o quasi nessuno credesse al momento del sorteggio tutti davano l'Inter per spacciata Barcellona e Bayern agli ottavi un Barcellona che ha investito di tutto e di più ipotecando qualsiasi cosa andando a prendersi Lewandowski Rafinha Koundé Kristensen che si quanti ne hanno comprati Rafinha e il mercato da due dell'Inter questa società così sempre criticata questa proprietà così malvagia e senza soldi si sta avvicinando a una impresa storica probabile formazione onana in porta con Skriniar De Vrij e Bastoni Dunfries e Gosens finalmente speriamo che sia la sua serata a confermare i progressi sulle ali diciamo del gol col Barcellona anche se io l'avrei fatto giocare subito con la Salernitana proprio per sfruttare e recuperarlo subito in mezzo al campo i soliti noti Mkhitaryan con Barella e Cialanoglu Dzeko e Lautaro con Lukaku entrare negli ultimi 20 minuti anche se io vi ho detto io lo farei iniziare Lukaku e poi lo toglierei quando non è a più fargli fare un tempo gasare l'ambiente gasare il giocatore farlo giocare subito dopo il riscaldamento forte insieme ai compagni che è sempre più importante rispetto a quello che puoi fare da solo a bordo campo e vedremo come come la gestirà Inzaghi dicevamo partita quanto mai importante per andare a prendere anche quei 20 milioni del passaggio del turno che valgono veramente tanto e che serviranno poi ad andare ad aumentare e a fare quella offerta irrinunciabile a Skriniar per per provare a fargli rinnovare con l'Inter ringraziamo Cassano che ha confermato uno dei tanti nostri mega scoop sul rinnovo a Skriniar ma soprattutto sull'offerta molto molto importante che farà l'Inter a Skriniar proprio già da domani con l'incontro col suo agente un'offerta che vi abbiamo detto ancora prima della gara di Pilsen che sarà arriverà con i bonus a 7 milioni una diciamo una situazione che abbiamo previsto la sera stessa in cui saltò Bremer gli abbiamo detto adesso rimane Skriniar e si cercherà di rinnovarlo giusto per mettere i puntini sulle i a chi cerca di appropriarsi delle notizie che diciamo e vi mettiamo qui sul nostro canale brutta aria intanto a Londra e a Torino poi leggiamo sui giornali a Londra addirittura ai tifosi del Tottenham chiedono l'esonero di Antonio Conte dicono che la squadra gioca troppo in modo difensivo sembrerebbe il Barnley chiedono la testa di Conte pensate e lo stesso Perisic da quello che filtra e ci arriva finito anche spesso in panchina con Sessegnon titolare a sinistra si sta un po' pentendo della scelta che ha fatto in estate della decisione che ha preso di lasciare l'Inter dicevamo aria pesante anche l'ironia il karma l'ironia della sorte a parte che mi sembra assurdo dopo che ha riportato in alto una squadra va bene le ultime due sconfitte ma comunque è cresciuta tanto con Conte se pensiamo al Tottenham prima che lo prendesse Conte come stava in condizioni però sappiamo molto bene che non esiste la riconoscenza nel calcio aria pesante a Torino addirittura hanno stati chiesti gli arresti domiciliari da quello che apprendiamo dalla stampa per Andrea Agnelli si discute delle alterazioni di bilancio di tre esercizi durante la pandemia che hanno permesso di migliorare i conti e ha un club quotato in borsa insomma di di fare operazioni su cui si continua ad indagare anzi si è finito adesso di indagare adesso inizieranno i dibattimenti e vedremo che cosa porteranno registriamo e vedremo cosa succederà poi leggiamo meglio sui giornali adesso chiariamo un paio di cose intanto per i nostri maestri che ci vogliono insegnare a fare informazione un minimo di preparazione sarebbe gradita se volete dispensare calcio o qualcosa di simile Mkhitaryan ha 33 anni non è a 36 tantomeno 37 capite la cattiva fede di questi personaggi oltre che l'incompetenza 36 37 anni magari ce le ha qualcun altro non Mkhitaryan per cercare sempre di sminuire addirittura ti arrivano a dire che Mkhitaryan ha 36 anni 37 33 mi dispiace poi se ti togliamo Megascope is coming facciamo anche una lezione di inglese per le capre del tubo sta arrivando non è il Megascope il nome dello studio legale tra l'altro la notizia per spiegarlo agli incompetenti non è neanche il nome dello studio legale che comunque è importante che comunque è lo studio di cui si avvale da sempre l'Inter consulente in materia legale dell'Inter ma intanto la notizia è il mandato che comunque ci è stato smentito dall'Inter che continuano a ribadire che non c'è neanche nessun mandato a Reign Group per cercare dei possibili compratori ma la notizia secondo noi è il mandato a seguire l'operazione di Reign dal punto di vista legale la conferma che è cominciato un certo processo cominciato e vedremo poi come andrà a finire perché ve le abbiamo sempre spiegato quante sono le variabili in gioco e quanto sia comunque complicato lo insegna la storia lo insegna come saltò la trattativa con BC Partners dopo la due diligence di diversi soggetti che è in corso che è cominciata dopo la diciamo il mandato il mandato a Reign Group di trovare possibili investitori soci partners compratori fate vobbis bisogna vedere chi si siede al tavolo chi tratta e soprattutto se si arriva a dare la valutazione che ne fa Steven Zhang e se si arriva a un accordo quindi tutto da da vedere notizia sul Leifman & Watkins importante poi che sia uno studio comunque con sede principale a Los Angeles California California come da dove arrivano parecchie voci e dove spesso va Steven Zhang casualità lo vedremo nessuno poi dice che Reign non tratti o lo stesso studio legale con altri soggetti da altre di altre nazionalità però è lo studio di riferimento di chi vende non di chi compra che poi abbia sede in tutto il mondo è irrilevante ai fini della nostra narrazione però comunque non è francese non è medio orientale è americano alla sede principale a Los Angeles poi vedremo se sono solo delle casualità e comunque la notizia per gli incompetenti è che c'è questo ci sarebbe questo mandato a seguire tutta la parte legale di un'operazione di un'operazione che sta procedendo poi vedremo sentiremo che cosa dirà come verrà affrontata la questione venerdì che ci sarà a margine dell'assemblea dei soci a Palazzo Parigi una conferenza una conferenza stampa vedremo se parlerà anche Steven Zango o solo gli amministratori gli addi Marotta Antonello parecchie domande e carne al fuoco da chiarire da dallo stadio dalla situazione del club da il futuro insomma vedremo aspettiamo venerdì arriva presto ma non facciamoci non distraiamoci perché adesso la cosa più importante è quello che si riuscirà a fare domani la vigilia bisogna rimanere altamente concentrati capiamo per chi continua solo a fare visual parlando di altro quasi il campo non lo toccano neanche più noi rimaniamo concentrati e vi ricordiamo se potrebbero se potrebbero ragazzi si dice se potessero se più il congiuntivo quindi a questi che si vogliono vendere come grandi esperti anche di finanza internazionale prima consigliamo uno studio di italiano altarini si dice altarini non alterini mi segnalano quindi magari prima fatevi un corso online di italiano inglese is coming sta arrivando il mega scoop sta arrivando e lì nel cassetto abbiate pazienza stiamo verificando alcune serie di di situazioni di notizie ma sta arrivando come vi ricordate in estate da londra sta arrivando sta arrivando e poi è arrivato è tornato quel signore lì notizia data in esclusiva in anteprima mondiale così come quella che potrebbe essere la sua permanenza anticipati anche tutti i giornali inglesi e vedremo se anche questo mega scoop che sta arrivando anzi diversi sono in arrivo verranno poi confermati quando avremo le nostre conferme poi ve lo faremo sapere però non lanciamo i dadi e non spariamo a caso come fa chi non sa neanche come si si faccia questo lavoro e andiamo oltre e avanti un po' di messaggi da parte vostra e ringraziamento a tutti quelli che si sono iscritti anche recentemente a un canale che continua a crescere così come quelli che sostengono con i loro abbonamenti il nostro progetto di comunicazione a 360 gradi che hai fatto dei nostri social dei nostri canali e soprattutto nel nostro sito con cui stiamo cercando di far crescere tanti giovani appassionati di trovargli anche un lavoro come già in parte siamo riusciti a fare e andiamo avanti su questa su questa direzione importante dicevamo messaggi i vostri messaggi più popolari cominciamo da lì con la classifica che ci fa direttamente youtube passami una battuta anch'io vorrei le scuse della fiorentina e di terracciano per il passaggio decisivo aleavo per lo scudetto dell'anno scorso sono i primi a dover abbassare i toni non insinuare dubbi assurdi adesso ridiamo insieme è stato tra l'altro individuato il tifoso 56enne che avrebbe tirato il pugno e quant'altro spintonato anche agenti della polizia 56 anni che vai a prenderti come un ragazzo cose dell'altro mondo ci dissociamo in ogni maniera in ogni modo così come da anche chi cerca di giustificare questi comportamenti per gli errori con gli errori arbitrali o l'atmosfera ma non sono mai giustificabili come ha anche poi detto molto bene il sindaco di Firenze a cui facciamo i complimenti per le sue dichiarazioni Luca De Feo Inzaghi e la squadra hanno impartito a tutti una lezione col lavoro il coraggio il dialogo si possono combattere le critiche le malelingue ci si può rialzare evitare scorciatoie poco sane come il cambio di allenatore in mezzo a una stagione è vero prendiamo gol ma ne facciamo anche tanti abbiamo dato la dimostrazione che essendo uniti possiamo evitare ritiri punitivi veleni e debacle vergognose è un esempio tra tutti Andanovic capitano vero bravi tutti continuiamo così momenti difficili vedremo oggi poi la Champions Juve e Milan che cosa riusciranno a fare poi chiaro bisogna migliorare migliorare dal punto di vista la gestione della partita del risultato non puoi farti rimontare sempre non puoi prendere così tanti gol Correa è un problema sperando che si risolva quando qualcuno offre 25-30 milioni per Correa svegliatemi e venitemi a chiamare tra l'altro sarebbe anche a rischio mondiale speriamo proprio di no perché quella vetrina potrebbe essere veramente la cosa fondamentale per riuscire poi a venderlo e a trovare un'alternativa era importante vincere abbiamo raggiunto l'Udinese tre punti alla Roma e anche all'Atalanta avanti così ora testa al passaggio di Champions grande Fabio grande Marcello Marco ha perfettamente ragione il problema della nostra rosa è la mancanza di alcune tipologie di giocatori già da qualche anno mancano intanto giocatori veloci tranne Lukaku e Bellanova soprattutto in difesa con recuperi spesso difficoltosi quindi la linea difensiva non può essere alta comunque tra i veloci ci metto Gosens e quello scatto al Camp Nou di 60 metri comunque la squadra è forte ci sta mettendo garra volontà e i risultati si vedono e adesso torna Lukaku e vediamo poi con Lukaku che Inter sarà possibile che ogni volta a Firenze deve succedere questo macello dovrebbero fermare un po' tutto quello che accade in quel in quel limbo bravo Marco la stessa identica cosa che ho pensato durante la partita appena segnato quel bellissimo gol Lautaro all'amilito da applausi che per ironia della sorte della sorte gli ha fatto superare proprio il principe nella classifica dei goli ad or Massimiliano Romani Marco Zorro TV il Napoli sta meritando la prima piazza l'incognita maggiore quanto sarà la lucido Spalletti a gestire la pressione in fondo che poi continuerà a salire andando avanti la pressione vedremo intanto come arriveranno le squadre alla sosta come ricominceranno secondo me può aiutare la sosta proprio Spalletti che di solito ha un calo verticale nei mesi di gennaio e febbraio proprio a rifare una preparazione a ripartire da zero ancora tutta quindi Napoli quanto mai la grande favorita in questo momento anche per come gioca Paolo Gangemi video davvero ricco oggi tanti spunti interessanti grazie per tutto sei sempre prezioso per noi interisti amanti della verità e non delle favolacce da supermercato sui fatti di Firenze se ne sta parlando troppo e desideratamente addirittura Cassano ha detto che il fallo di Di Marco era da 5 giornate ma di cosa stiamo parlando a parte che appunto non affonda neanche il tacchetto è un intervento scomposto che non è cattivo e perde l'equilibrio e va a colpire l'avversario tanto che a velocità normale dal campo non aveva neanche fischiato il rigore Valeri e rivisto comunque la moviola non ha neanche ammonito un minimo di equilibrio capiamo che per avere un po' di visual anche qui bisogna sempre spararla grossa però direi proprio no molta curiosità riguardo le news sulla società ulteriore conferma del tuo ottimo apparato del tuo ottimo operato scusate Pierangelo Rossi ci stiamo dimenticando tutti che all'undicesima giornata dello scorso campionato Napoli e Milan avevano a testa 10 vittorie e un pareggio noi eravamo a 7 punti con tutto il malcontento quest'anno sempre all'undicesima siamo a 5 punti almeno 8 dal Napoli Gabri Melodinoz ci sono delle cose da correggere ma non si possono non fare applausi a questa squadra Gianluca Vaccaro citando il rigore regalato alla Fiorentina nel 2019 che va se il 3-3 e due punti scudetto direi che sabato abbiamo vinto a petto in fuori i risultati stanno dando ragione al mister ma è innegabile che i cambi arrivano quasi sempre in ritardo che anche a Firenze come a Barcellona non lo so alla fine ha schierato una formazione che ha avvantaggiato il fossing degli avversari Roberto non sono d'accordo con te anche per chi continua a criticare Inzaghi nonostante la vittoria gestione di Dzeko perfetta è entrato proprio al momento giusto e ha fatto la differenza e ha portato l'Inter a vincere qualcuno se lo scorda salutiamo Giuse Suami faccio gli auguri per il compleanno anche il ritardo Marcone sembrava impensabile giocarsela così in Coppa adesso manca l'ultimo sforzo e bisogna rimanere concentrati Luca Clerici solo qui notizie vere verificate alta professionalità da parte tua e di tutto lo staff che collabora con te e grazie Luca Già Luca Viccaro cambia una vocale secondo me la fase difensiva è migliorata molto non ci sono più le pratterie concesse all'avversario bisogna correggere le situazioni sulle palle sporche e sulle palle inattive perché non puoi prendere sempre gol in quella maniera lì Jerry Boomer TV siamo venuti fin qua siamo venuti fin qua per vedere l'assist a Mkhitaryan scusate un po' di sana goliardia finché sana va sempre bene buongiorno Marco ottime notizie come sempre inaccettabile tutto quello che è accaduto a Firenze la Fiorentina dovrebbe chiedere scusa a Spalletti all'Italia intera per quello che succede in quel catino di stadio Giovanni Monopoli sono disgustato da tutto quello che sta succedendo Luigi Fantauzzo grande vittoria di fortuna Samuele Fuschi la Fiorentina si meriterebbe di giocare a porte chiuse buongiorno a tutti Inzaghe dovrebbe avere il coraggio di cambiare modulo quando si trova contro giocatori così veloci e agili su questo possiamo discuterne Admir testa al Pilzen per chiudere il discorso Champions Claudio Romelo a Firenze avevano detto che sarebbe andato a Barcellona ripartendo dalla panchina ne hanno dette tante riflessione di Lautaro ci tocca assegnare quattro gol per vincere insomma bisogna rivedere qualcosa dietro non puoi sempre fare quattro gol e anche non ne puoi prendere sempre tre vediamo comunque andiamo avanti un po' direi di rassegna stampa cominciamo dalla gazzetta dello sport sempre in prima linea in copertina naturalmente ci sono Milan e Juve che oggi sono chiamate a giocarsi la qualificazione di Champions e a evitare un'eliminazione che sarebbe un'amazzata per entrambe Milan vinci e svolta notte verità Zagabria per prenotare il pass per gli ottavi e entrare in una nuova dimensione europea Juve vinci e spera serve l'impresa Lisbona col Benfica per crederci Allegri Karikavlavic e poi Ciala Miche Barella il trio fa centro senza Brozovic il focus sull'Inter poi Milan fai come se fossi a casa tua ne parla anche Boban Juve la notte per sperare sarebbe un danno economico e intanto la Juve è sotto inchiesta plus valenze e stipendi 16 indagati nella società IPM bilanci alterati la procura di Torino chiude le indagini sui vertici del club chieste e rifiutati i domiciliari per il presidente Agnelli c'è una Juve impegnata sul campo in Portogallo un'altra che dovrà difendersi in tribunale ieri la procura di Torino ha notificato 16 indagati tra cui il club il presidente Agnelli il vice Pavel Nedved l'ex responsabile dell'area sportiva Fabio Parati c'è altri membri tra CDA dirigenti con responsabilità strategiche collegio sindacale revisore legale l'avviso di conclusione delle indagini partite nell'estate 2021 dalla Guardia di Finanza coordinate da un pool di magistrati relative ai conti dei bilanci 2018 2019 2020 i reati contestati sono il falso nelle comunicazioni sociali e le false comunicazioni rivolte al mercato plus valenze e stipendi e quell'accordo di tagliare gli ingaggi con quelle scritture private e vedremo che cosa porterà quando il trio fa centro Barella e Michi più Turbo Ciala la nuova mediana e l'oro dell'Inter il focus della gazzetta Lukaku pronto per la Champions può partire dalla panchina il Belga tornato in gruppo domani con il Vittoria Pilsen con vocazione dopo due mesi una notte da Lula piena per ricominciare a sognare il desiderio di tutti i tifosi interisti che domani ancora sold out contro Vittoria Pilsen il campo con Romero Lukaku ormai totalmente ristabilito dalla lesione e flessione della coscia sinistra il Belga scalpi dalla voglia di giocare di trovare il campo e il sapore della contesa domani saranno due mesi esatti dall'ultima partita giocata ricordo negativo ma non amaro sconfitta Roma contro la Lazio e poi un focus anche su Andanovic da inamovibile in campo a nuovo vice di Nzaghi Samir studia già da tecnico non è ancora in programma un futuro nello staff ma fa il capitano pure in panchina e la foto dei suoi consigli a Onana poi i daspo del Franchi violenza allo stadio un tifoso viola inibito per tre anni oggi la denuncia per il pugno al nero-azzurro inter sempre più gelida con la fiorentina e la procura FGC sta analizzando il finale Rovente tra i due club andiamo al corriere dello sport in copertina Juve nella tempesta attenzione Allegra Lisbona si gioca l'Europa Agnelli rischia il processo serve una vittoria e poi si parla del Super Napoli solo in testa alla classifica accuse di falso per tre esercizi nuove imputazioni erano state chieste misure cautelari CR7 avrebbe rifiutato di dare spiegazioni la procura notifica la chiusura delle indagini coinvolti in 16 poi per quanto riguarda l'Inter focus invece qui su Lukaku il suo ritorno Lukaku si sente pronto staffetta da Champions Inzaghi lo ha aspettato ora Big Rom ha intenzionato a recuperare il tempo perduto contro il Pilsen può tornare in panchina Dunfrise Gosens spinta esterna sugli esterni ritornano loro con il Barca che proverà l'impresa col Bayern appuntamento da piano poi in giornata mi raccomando sempre